bentornati su gong il podcast di round 2 e oggi è un gong che suona a morto come un dong esatto che riecheggia perché l'argomento unico di questa puntata è ovviamente la cancellazione delle tre che più che una cancellazione suona veramente come una lugubra operazione funebre e come Marco scriveva nell'articolo che potete leggere anche su Final Round che sa anche un po' di vilipendio del cadavere ma sì era già chiaramente morto da un po' di tempo e il tentativo da parte di ReadPop che ovviamente approfondiremo nei prossimi minuti e che in realtà già è stato più di una volta argomento di conversazione qui su gong di riprovare a concretamente dare un'altra chance facendocela un po' credere a tutti che questa realtà potesse tornare in una forma leggermente diversa, ristrutturata in maniera anche direi opportuna eccetera però non impossibile, davvero è parso come uno sfregio a un defunto che meritava comunque un rispetto e proprio una sacralità diversa sì sono d'accordo direi di ripercorrere un attimino le tappe di ciò che ha portato a questa cancellazione anche perché scusa fra faccio presente che questo inizio tipo adesso stiamo dandolo per scontato ma se tre mesi fa ci avessero detto tra tre mesi registreremo una puntata di gong in cui diamo completamente per morto le tre come vabbè oramai l'abbiamo capito ma che cazzo stai dicendo? no no infatti è giusto ripercorrere le tappe perché in realtà vabbè lo sapete le tre ovviamente ha subito il contraccolpo della pandemia del covid che è arrivato diciamo in un momento in cui già la fiera non se la passava benissimo anche negli ultimi anni in cui la fiera Los Angelina diciamo ha poi trovato sfogo nei saloni del convention center c'era un po' di malcontento i prezzi erano alti, avevano iniziato tante aziende ad allontanarsi, Sony e Microsoft non la supportavano più, Nintendo era rimasta fra gli hardware manufacturer l'ultimo baluardo insomma delle grandi compagnie che decidevano di entrare proprio nel convention center poi appunto è arrivato il covid ed è stato naturale che le dizioni fisiche non si facessero ovviamente tutti pensavamo che non sarebbe mai più tornato e invece lo scorso autunno è arrivato un annuncio che non ci aspettavamo quello di ReadPop che è appunto un ente fieristico che organizza tante altre fiere consumer come per esempio il Comic Con, i Pax la Star Wars Celebration e quindi ci siamo detti tutti quanti che sarebbe potuto essere questo insomma il punto di svolta anche perché uno dei motivi della crisi del tre vecchio modello era proprio la sua cronica incapacità di aprirsi anche al pubblico in una maniera magari più interessante per le aziende. Ecco, le tempistiche erano giuste perché quando è arrivato l'annuncio c'era tutto il tempo per preparare un'edizione anche d'impatto e poi però piano piano queste tempistiche sono diventate invece sbagliatissime perché passavano le settimane, passavano i mesi, non c'era nessuna dichiarazione legata ai partecipanti, anzi erano arrivate dichiarazioni di chi si allontanava. Tutti ci credono e abbiamo riscontri fortissimi e continuavano ad arrivare io non ci sono, io non vengo, io faccio altro. Quindi non c'erano biglietti venduti, c'erano solo l'apertura diciamo delle registrazioni per la stampa ma avvicinandosi sempre di più la data ci chiedevamo ok ma che cosa ci sarà effettivamente a questo evento? Vogliamo raccontare anche un po' un dietro le quinte che ci riguarda? Sì sì guarda raccontiamo di questa richiesta di media partnership che è arrivata, mi prendo solo un secondo giusto per dire una cosa in realtà l'ESA che è l'Electronic Software Association americana ovvero l'assemblea diciamo di settore del videogioco che riunisce i vari editori e che organizza formalmente, ha sempre organizzato l'evento anche negli anni della pandemia e nell'immediato post ci aveva provato, cioè questa era la quarta volta in cui di fatto provavano ad organizzare lo show lasciando stare il primissimo anno in cui c'erano delle immagini anche inquietanti del convention center trasformato in una roba paramilitare con appunto in piena pandemia l'assistenza ai malati, anche ai tanti homeless che ci sono a Los Angeles però l'ESA da sola aveva cercato di ripristinare questo carrozzone rispondendo a una voglia che l'industria comunque evidentemente ha e che adesso magari approfondiremo un pochino l'arrivo di Readpop però aveva dato una marcia in più e ci aveva convinti che potesse essere la ripartenza che meritava e che poteva davvero rinnescare il tutto un modo di appunto anche a livello di comunicazione rivolgersi sia al pubblico che alla stessa industria che ci stava toccando da vicino, svegliamo questo retroscena noi nelle scorse settimane siamo stati contattati direttamente dalle tre di fatto per una possibilità di media partnership hanno riconosciuto nel lavoro che abbiamo svolto in questo quasi anno qualcosa di importante il fatto di essere degli interlocutori affidabili e credibili e dietro le quinte stavamo parlando il punto è che a nostra precisa richiesta di ok diventiamo media partner cosa succede, cosa vuol dire, dove mettete il nostro logo, cosa ci date in cambio, come funziona però l'evento ma anche chi c'è e che cosa andremo a raccontare esatto, perché noi abbiamo detto a prescindere noi ci siamo veniamo e veniamo di tasca nostra, abbiamo già pagato tutto quindi quello non è un problema e comunque andremo lo stesso ovviamente perché ci sarà da raccontare al Summer Game Fest eccetera eccetera però loro di fronte a delle domande più che legittime e peraltro sempre vi possiamo svelare condivise anche da tantissimi altri partecipanti anche a livello internazionale e hanno dato delle risposte non evasive ma di più che secondo me hanno iniziato a tradire una gestione completamente scellerata in cui loro stessi probabilmente non avevano preso accordi veramente vincolanti con nessuno se non con la città di Los Angeles con cui adesso dovranno ovviamente fare i conti e alla fine è stato inevitabile fare un passo indietro o dovevano trasformare tutto in qualcos'altro o fare il passo indietro che alla fine ieri è arrivato tra l'altro pure nella comunicazione del fatto che saltasse tutto sono riusciti a fare male nel senso che avevano in mente di fare un comunicato stampa diverso da quello che hanno fatto è uscita la notizia e sono usciti in maniera in fretta e furia così ma con una dimostrazione veramente imbarazzante di Real Pop che invece che aggiungere qualcosa per assurdo ci ha perso qualcosa nella gestione di tutto questo sì dicevo secondo me anche questa tempistica di gestione delle media partnership in realtà amplifica un po' l'idea che ho che loro siano stati disorganizzati al massimo grado perché non è certo round two o final round o gong che ti sposta le cose però avere delle media partnership forti magari può incentivare anche delle aziende che sono alla ricerca di una copertura mediatica a entrare lì dentro e decidere le media partnership a due mesi dall'evento non succede cioè nel senso anche il Luca Comics and Games ce le ha scritte nella pietra ma 9-10 mesi prima che poi è il paradosso perché allora lo accennavi tu prima loro sono stati proprio della serie nel voler essere molto risoluti e dire oh raga siamo tornati l'evento c'è hanno addirittura aperto le registrazioni ai media forse ottobre novembre una roba simile molto prima del solito cioè di solito si fanno a gennaio e febbraio quelle cose proprio per mandare un segnale e un'indicazione di dire ci siamo vogliamo comunicare per tempo sono partiti con il piede migliore possibile salvo perdersi non in quest'ultimo mese dove chiaramente già si fiutava un po' un pasticcione ma già dall'inizio dell'anno è diventato un argomento questo delle tre in cui di cui non si parlava mai esplicitamente ma il punto è che nemmeno loro lo comunicavano con la giusta secondo me anche precisione i giusti tempi i giusti modi all'interno dell'industria in tutto questo secondo me c'è da affrontare un paio di discorsi ovviamente il primo è che dopo un tracollo così rumoroso e fra l'altro così secondo me anche inelegante confuso pasticciato come dicevi tu anche nell'annuncio della cancellazione le tre vecchio modello ormai non tornerà più hai perso completamente di credibilità esatto in quel comunicato stampa che tu citavi che loro avrebbero voluto mandare ma poi non l'hanno fatto si rivendicava ulteriormente la voglia l'intenzione di rilanciare la fiera l'anno prossimo però secondo me dopo questo pasticcio davvero anche i grandi publisher probabilmente non vedranno più quella fiera alla stessa maniera l'altra cosa da commentare è sicuramente invece la reazione di Geoff Keighley che la sua Summer Game Fest l'ha confermata che già nelle ultime settimane quando qualche publisher diciamo annullava o la presenza delle tre o diceva che non ci sarebbe stato sembrava gongolare sulle sue piattaforme social lo squalo fiuta il sangue no? a distanza ha dato veramente il meglio di sé o il peggio o il peggio esatto perché ha messo tutte le possibili reazioni ai post ufficiali di Ritpop e dell'ESA e poi si è lanciato in una serie di tweet in cui si vende un pochino come il salvatore dell'industria ma si si auto celebrava in un momento in cui il tuo avversario in difficoltà come dire si inginocchia e fracassa clamorosamente così al suolo sai benissimo anche tu che il tuo avversario ha fatto una figura di merda epocale ma certo almeno nella gestione e ti ha consegnato la vittoria per sempre certo non c'è neanche bisogno di metterla in mostra questa vittoria perché è chiara agli occhi di tutti esatto e almeno nella gestione dei tempi aspetta una settimana se proprio diciamo vuoi come posso dire glorificarti autoglorificarti almeno non farlo nell'esatto momento in cui avviene questa che comunque per l'industria è un evento un po' tragico lo è ma certo ma io dico una cosa lo dico da fan dello sport e del calcio che spesso tira fuori il peggio dei tifosi ma io mi considero un tifoso evoluto nella vita arrivo a dire questo più in generale bisogna saper vincere e saper perdere tutte e due le cose che chi li sia uno molto bauscione molto gradasso molto che comunque si piace anche con merito perché comunque ha avuto davvero il privilegio la bravura di allestire qualcosa di importante con le sue dei game awards e non solo è chiaro secondo me davanti a delle difficoltà del genere che come dici giustamente tu sono comunque un segnale non bello per l'intero settore arrivare a tirare il petto all'infuori e far vedere che ci sei tu che sei il protagonista e quello che salva la baracca secondo me è molto inelegante farlo così rivendicandolo tantissimo le scorse settimane tra l'altro anche curiosità logistica ieri sera quando è uscita questa cosa verso le 11 lui era ai BAFTA ma sei ai BAFTA a farti le foto con Shuyoshi da gente del genere ma devi metterti a fare i tweet da 15enne presa a male sì diciamo un'altra cosa anche questo forse è un po' un dietro le quinte secondo me questo atteggiamento oltre insomma a essere in continuità con altri con altri exploati i chili secondo me testimoni anche un po' di accredine personale l'anno scorso si vociferava che lui volesse proprio acquistare il logo la licenza delle tre e utilizzarla magari insomma per evolvere la sua Summer Game Fest evidentemente è arrivata ReadPop a soffiarli sotto il naso questa possibilità teoricamente con una potenza di fuoco anche diversa assolutamente sì ma infatti la decisione dell'ESA di fidarsi di ReadPop secondo me è molto comprensibile soprattutto dopo aver visto quello che aveva messo in piedi lui che era una cosa interessante ma veramente microscopica rispetto alle tre tradizionale evidentemente lui non l'ha presa bene questa cosa ci credeva davvero l'anno scorso nella possibilità di acchiappare quella licenza forse adesso non lo so questa possibilità ritornerà sul tavolo ma in ogni caso se anche lui dovesse prendersi il logo e la licenza delle tre le tre sarà un evento profondamente diverso da quello tradizionale e più probabilmente simile a un'evoluzione della Summer Game Fest che è un ritorno della convention della Kermess che tutti conoscevamo guarda solo una cosa voglio aggiungere in chiusura di podcast far presente a chi ci ascolta che soprattutto per chi legittimamente vedeva tutto da casa per loro le tre erano ovviamente le conferenze a notte fonda viste con gli amici commentate mangiando schifezze eccetera eccetera tutta quella parte lì che chiaramente era associata nella memoria collettiva nella comunicazione eccetera eccetera alla fiera di Los Angeles in realtà non era davvero le tre cioè le tre per chi ci andava era il martedì in cui si apriva lo show floor in cui andavi incontravi persone vedevi provavi cose tutta quella parte lì tutta quella parte di contatto con il pubblico di networking col prodotto eccetera eccetera è assolutamente insostituibile e dà senso che le aziende i publisher abbiano deciso di fare le cose in maniera diversa e di ripartire anche gestendosi autonomamente la comunicazione spalmandola nei 12 mesi eccetera eccetera quello che però dobbiamo trasferire a chi ci ascolta è che in realtà l'industria ha la voglia di avere un evento di settore la voglia di trovarsi di avere anche tutti i possibili interlocutori media buyer di tutti i livelli tutti assieme in un unico posto ce l'aveva il come sì sì sono d'accordo con te speriamo che questa voglia trovi accoglimento secondo me prima di chiudere un'altra cosa da comunicare c'è ovvero che le tre come fiera in sé questo appunto che dicevi tu all'interno dei padiglioni del convention center è morta almeno per quest'anno ma a los angeles nelle settimane centrali di giugno qualche cosa succederà noi voleremo a la fra l'altro torniamo per chi ci seguiva anche su youtube e su twitch nella casa dell'anno scorso e ci andiamo da una parte per seguire appunto la summer game fest che oltre ad avere una cerimonia d'apertura che sarà trasmessa digitalmente l'8 giugno lo ricordiamo già avrà anche un suo show floor sostanzialmente in cui il 9 e il 10 potremo provare varie produzioni non sappiamo ancora chi ci sarà ve lo faremo sapere però le aziende continueranno a comunicare in quel contesto per esempio Microsoft ha già confermato la sua conferenza per l'11 di giugno Ubisoft che è stata la prima azienda diciamo a tirarsi indietro nell'ultimo periodo dopo aver confermato la presenza all'E3 e ha fatto un passo indietro però ci sarà un Ubisoft forward il 12 di giugno in diretta a Los Angeles e il fatto che le aziende siano presenti sul territorio mi fa pensare che ci saranno anche delle possibilità dei momenti di contatto con i loro prodotti in più ci sono tanti altri publisher che magari la voglia di andare lì ce l'avevano che qualche piano l'hanno fatto che i giochi da mostrare ce li hanno e che probabilmente saranno a Los Angeles magari chiusi nelle suite di qualche hotel mi viene in mente per esempio che giusto ieri poche ore prima dell'annuncio della cancellazione dell'E3 CD Projekt ha confermato sui suoi profili social che a giugno si vedranno delle novità sul DLC di Cyberpunk quindi probabilmente oltre a Phantom Liberty fra penso voglio dire per fare un nome grosso Armored Core dovranno farlo vedere provare in qualche maniera se sai che sono lì in tanti potrebbe essere l'occasione per fare quindi voi seguiteci perché noi a Los Angeles ci andiamo certo ad averlo saputo prima saremmo tornati un paio di giorni in anticipo ci godremo un po' una vacanza diciamo così oppure andiamo a fare delle interviste chi lo sa grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong l'ultima della settimana noi torniamo la settimana prossima con l'attualità vitoludica grazie ciao